Quello dell'Asde Imperiese è il territorio in Liguria che presenta i maggiori problemi dal punto di vista della diffusione dei contagi da Covid-19 coronavirus all'interno delle case di riposo. La conferma è arrivata dall'assessore regionale alla sanità e vicepresidente Sogna Viale che non a caso ha concertato con la prefettura, l'Asde della protezione civile regionale l'invio sul territorio imperiese di nove fra medici e infermieri della marina militare per cercare di allentare il peso della situazione creatosi all'interno di alcune residenze sanitarie che si occupano degli anziani. Un caso emblematico negli ultimi giorni è stato quello della casa di riposo di Borgomaro ma non è l'unico. A Imperia nelle settimane precedenti si sono infatti registrati decine di decessi di anziani ospiti di strutture e alcune denunce da parte di parenti dei deceduti sono ora al vaglio della Procura della Repubblica. A livello regionale le case di riposo che presentano forti criticità sono il 40% del totale mentre il 60% delle strutture è riuscito a contrastare la diffusione del virus. Grazie alla protezione civile sono stati distribuiti dispositivi di protezione individuale per il personale e sono ora in corso ulteriori azioni da parte della regione. La vicepresidente Viale ha sottolineato che i test sierologici avviati su 20.000 persone tra ospiti e lavoratori dell'RSA per anziani verranno estesi anche alle residenze per le persone disabili e per i pazienti psichiatrici. In base ai dati relativi ai primi test effettuati è emerso che l'86% degli ospiti delle case di riposo e il 91% del personale su base regionale fino ad oggi non è venuto a contatto col virus.